Riflettori accessi sul Sulmona, ma non solo sul palco, le celebrazioni per il poeto video sono finite nel mirino 5 stelle. Il gruppo locale sulmonese, amici di Beppe Grillo, ha chiesto e ottenuto l'accesso agli atti. I documenti arrivati il 4 maggio sono già sottolinei l'ingrandimento per valutare eventuali congruenze e regolarità. Sicuramente quello che appare da una prima analisi era poca trasparenza, fa sapere il consigliere regionale Gianluca Ranieri, che si sta occupando del caso. È bene ricordare che la distribuzione dei fondi, 100.000 euro, sono arrivati nelle casse del Comune grazie al finanziamento della Regione e già assegnati per la quota di 72.800 euro alle associazioni. La Regione e il Comune devono essere garanti di una gestione equa e trasparente di risorse che appartengono a tutti i cittadini. È intollerabile, in calza Ranieri, qualsiasi forma di prelazione o di interesse privato che mini alla base il principio di equità e di ugualianza dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione. E faremo in modo che, se presente, ogni regolarità emerga, conclude il consigliere regionale Pentastellato. Anche il suo video 2017, il Movimento 5 Stelle invoca l'operazione trasparenza.